Vede due teste secondo te, ma le vede proprio due teste? Due teste, guarda che teste Che storia, guarda figlio, due teste Ah ciao ragazzi, siamo in onda Che storia, eeeh, allora Tutto bene? È tornato qua È tornato camper jobs Si è ritirato Ha fatto Ma uno, cioè Ho 44 anni, non era andropausa Però mi sono preso una pausa un attimo Perché stavo Come vi posso dire Macinando qualcosa Aspetta che c'è troppa luce Troppo sovraesposizione Siamo troppo male Questo è il nuovo proprietario di Nonno Camper Si chiama Rabberiamo Incredibilmente Sono il nuovo proprietario Potete venire a scassarmi il cazzo nel canale Esatto, potete andare A scaricarvi i suoi video A fargli water Potete fare di quello che volete Perché lui Fumiamo Fumiamo Intossichiamo subito il tuo nonno Vai Eeeh Ragazzi C'è una bella novità Come vi dicevo Ho finalmente trovato il lavoro che volevo A brevissimo Vi presenterò il mio nuovo camper Lui l'ha già visto È un camper quasi nuovo E che camper È un camper quasi nuovo Ecco bella gente Però non vi dico niente Con un segreto Non vi dico niente Perché è 2003 JTD Una roba che quando schiacci si impenna Adesso il nonno è mio ragazzi Adesso è il nuovo proprietario del nonno Guardatelo bene Guardatelo Non è più questo Ma è diventato questo Lui è il proprietario Non questo Questo qui non è più Questo Sono io Non questo Questo e non questo Volevamo fare Cioè Glielo ho detto Ma perché non fai un tipo Perché non fai tipo Un canale Lo chiami Canale nuovo Camper Giamma Camper Giamma Camper Giamma Attenzione Perché gli volevo regalare Camper Giamma Ma mi ha detto No no Sparati Allora visto che fai così Ho detto Vabbè Facciamo il tre passi Io volevo No Non è vero Comunque ragazzi La storia è questa Il camper l'ho curato Per il tempo Che sapete Tenuto benissimo Niente da dire Adesso Vi farò vedere Il nuovo camper Questo qui È il mio nuovo Pestione Non so se si vede Quanto è bello Quanto è grande Vabbana Posso fargli vedere Il tuo nuovo frigor Posso Giamma still Giustamente Ha frigorizzato il frigor E vada via Comunque Sono molto contento Perché ho trovato Finalmente Un sistema Per lavorare Per guadagnare Un bel po' di soldi Io gli ho messo Tutte le sue cose Mi faccio fare un giro Molto rapido 360 gradi No non ce la faccio Sennò mi dovrei rompere Un polso Comunque è così Questo è quanto Questo è quanto Così almeno Tutti quelli Che chiedono Tutti quelli che dicono Ma il camper Dove è andato Camper Giamma La risposta è Camper Giamma Il nonno non è più mio Adesso Il nonno è suo Era tempo che lo cercavo Vi dico una cosa Ragazzi Non condividerò Per ancora qualche mese La mia vita Sul camper Perché Devo arrivare al punto Da avere abbastanza soldi Da non dover lavorare O comunque Da arrivare molto vicino A vivere di interesse Poi magari lo ribattezzerà Io ho già No L'eredità del nonno Fai come vuoi Non è un cane Che se non lo chiami Ti immagini Lo chiami Vai a scaricare Torna con la spesa Tra 3 km in 3 Di uscita 13 verso Bologna Padua zona Inde Sì Che ne so Tipo Con la rumena Già attaccata Come Kit Che chiama Kit Esatto Che lo chiamano Ehi Kit Sono tutto fatto Vieni a prendermi Bella Non me l'aspettavo È stata un'ottima scelta Una cosa molto carina Già Molto 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 carina Comunque Questo è quanto Ragazzi Questo è quanto Tra 600 metri Prendi l'uscita A 13 verso Bologna Padua zona Inde Prendi l'uscita A 13 Continua per 15 km Per adesso Un arrivederci E chissà Ciao